Perfetto, abbiamo qui Giuseppe Scarpa di Confindustria Legnano, Gianfranco Bononi, presidente della famiglia legnanese e Carolina Toglia, consigliere regionale di Regione Lombardia. Sta per iniziare l'Aida dell'Istituto Superiore Carlo dell'Acqua per il centenario. Un'impressione al volo? Sembrerebbe una bellissima serata, cento anni di un prestigioso istituto che ha forgiato parecchi studenti in questo lungo periodo. Una gran grazie al Preside e a tutti i docenti che hanno messo insieme questa compagnia. Sarà sicuramente uno spettacolo bellissimo. Perfetto, presidente Bononi? Visto la serata, sarà sicuramente molto bella e importante. La famiglia legnanese faccio parte e ho l'onore di far parte del comitato di cento anni dell'Istituto. La famiglia è sempre vicina agli studi di Legnano e a maggio faremo il premio di Giovanni da Legnano, proprio legato a tutti i ragazzi di Legnano. Per cui buona serata. Perfetto, Carolina? Buonasera. Anche io con piacere sono qui questa sera. Sono felice naturalmente di portare i saluti del Presidente e più in generale dell'Istituzione che rappresento, che appunto è la Regione Lombardia. Mancano pochissimi minuti. Sono curiosa naturalmente di assistere a questo spettacolo. Sono felice, peraltro, che a questa serata partecipino anche i ragazzi dell'Associazione Solo nel Quadros, alla quale sono particolarmente vicino. Quindi insomma a questo punto non ci resta che goderci lo spettacolo. Ci ha raggiunto nel frattempo la senatrice amica Laura Pignami. Amica anche dell'Associazione. Sono qui per vedere realizzato un vero progetto di inclusione. L'inclusione è uno degli obiettivi di una buona scuola, di una scuola fatta bene, fatta secondo i criteri, diciamo così, giusti. Perché siamo tutti speciali, siamo tutti uguali. E scoprire quello che ciascuno di noi ha da donare, credo che sia da offrire agli altri, da condividere, che lo differenzia, lo distingue tra gli altri, credo che sia fondamentale. Per una buona realizzazione del sé e della società e di uno Stato. Grazie.